Si è appena concluso il corso su videosorveglianza e privacy organizzato qui in FPM. Siamo con Daniela Corradi, ufficio tecnico Secure Planet. Quali le sue impressioni di questo corso? Beh, allora, rispetto ad altri corsi effettuati, questo sicuramente ha avuto una marcia in più, perché ci ha dato una mano come installatore a capire cosa la privacy prevede per gli impianti di videosorveglianza e quindi ci dà la possibilità anche noi di rivolgerci ai nostri clienti con delle informazioni più importanti e cercare di essere un po' i loro consulenti, perché devono sapere cosa devono affrontare per essere a norma e non avere poi delle sorprese spiacevoli. Benissimo, quindi spiegazione chiara. E i contenuti? Beh, altrettanto, perché comunque ci ha dato anche una sorta di va de mecum che non avevamo ancora ricevuto, per cui adesso sta a noi essere capaci di dare queste informazioni appunto a chi ha fiducia nell'azienda, perché comunque si tratta di una cosa molto delicata, perché in impianti video parliamo di dare sicurezza e dobbiamo essere in grado di dare sicurezza anche al di fuori della videocamera stessa.